Siete partiti forse un po' in sofferenza, il primo quarto d'ora bene il Pescara, però da grande squadra alla prima occasione avete colpito e nel giro di due minuti avete chiuso la partita. Sì, bene il Pescara, un grande Pescara all'inizio, sapevamo che era una partita difficile perché loro dei metà a campo in su sono giocatori veloci che ti potevano mettere in difficoltà, è stato così fino al primo gol che ha aperto un po' la partita e poi l'abbiamo scelto bene. Partenza ottima per l'Inter anche in campionato 3-0, è il viatico giusto Milito? Sicuramente è un inizio importante per noi, siamo contenti perché qua è un campo difficile, abbiamo credo fatto un'ottima gara, sicuramente ci daranno cosa da correggere ma con partite sicuramente saranno meglio. Milito, lei come l'ha visto il Pescara? L'ho visto bene, l'ho visto bene, come ho detto, fino al primo gol ci hanno messo in difficoltà, è una squadra che è veloce, che sicuramente in campionato farà bene. Come si gioca con Cassano? Bene, bene, ovviamente avere giocatori come lui, come Snyder, come Guarini, credo che abbiamo una rossa importante e soprattutto tra i quarti in su abbiamo qualità.